saluta già contento anche io ma ma la vita la sorpresa su salami ma mica mi ha detto che stasera c'è la sorpresa andiamo a prendere il calo e senti quella vita la mano no ma andiamo a vedere sei contento? e ci credo ma non lo dicevo e fa urlare e ma e ma scendo del letto ma è sguastato mannaggia il colore ma la cosa è scappata già c'è cristo colonna energetica st'attento che mannaggia cristo non lo so non lo so non lo so non lo so ma come l'aspettavo se è andata via non lo so non lo so non lo so non lo so ma via non lo so non lo so che bella sorpresa che bella sorpresa che bella sorpresa che bella sorpresa ma te sto senti sto senti una cosa ma tu non lo senti niente raccontaci una storiella oh scomincia una storiella del pollo che si andava in giro oltre ma via mannaggia il colore di strana ma via la storiella ma via chi è chi è chi è lui è un filo migliore perchè? 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 non mi dici perchè? allora dormi